La sfoglia riccia per la sfogliatella è una lavorazione che purtroppo sta andando a finire nei laboratori di pasticceria in quanto molto lavorata e ci sono delle aziende che producono i tappi, i cosiddetti tappi per la sfogliatella riccia, belli e fatti in modo tale da agevolare la lavorazione. Mentre io quando ero un giovane pasticciere i miei maestri che facevano la lavorazione di questo splendido dolce di origini napoletanissime, napulegno doc, per me non era importante una torta anunziale come già vi ho detto nell'altro video ma bensì quella lavorazione di questo splendido dolce perché era la base della pasticceria napoletana e io ci tenevo tanto tanto che quando mi misi a fare questa lavorazione mi arrossiti praticamente, mi feci rosso come si dice a Napoli e lui disse, questo mio maestro mi disse, guaglio ti fatti rosso come se stessi vicino a una bella guaglione, come se stessi vicino a una bella ragazza e infatti lui mi disse per te la pasticceria la pasticceria napoletana è come una bella ragazza quindi la tratterai sempre bene. Come ben sapete c'è già un video nel mio canale della sfogliatella liccia però questo video 2021 è tutta un'altra storia. volevo ringraziare veramente tutte le persone che mi stanno facendo una donazione al fine di migliorare il canale qui sotto troverete il link vicino alla ricetta di ogni dolce compreso questo troverete il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo a fare queste splendide sfogliatelle vai con la sigla allora la ricetta per queste sfogliate ricce ne usciranno 10 12 sfogliatelle più o meno abbiamo il semolino lo cociamo con 300 grammi di acqua 6 grammi di sale 120 grammi di semolino il ripieno sarà tutto il semolino cotto più 300 grammi di ricotta di vaccino non tipo molle 250 grammi di zucchero semolato mezza arancia e mezzo limone grattugiato o un cucchiaio pieno di pasta di entrambi vi ricordo che la pasta di arancia c'è il video nel mio canale come farla mezza fioletta di aroma arancia la cannella ci vorrà un pizzico in polvere oppure due tre gocce liquida o quattro vaniglia un pizzico cubetti arancia canditi ce ne vorranno più o meno un 25 30 grammi per l'impasto che è un impasto semplicissimo 500 grammi di farina manitoba 220 grammi di acqua 10 grammi di zucchero e 10 grammi di sale la prima cosa da 150 gr di strutto per lavorare più o meno saranno 150 su fuoco l'acqua inseriamo il sale e portiamo ad ebollizione vedete il semolino deve essere quello sottile semolino sottile non prendete quella più doppio di grana perché poi è difficile diciamo raffinarlo se non avete una raffinatrice muniamoci di frusta per girare il composto accendiamo sotto la pentola a fiamma normale quando arriva l'ebollizione ci prepariamo per mettere il semolino nell'acqua vedete in questo modo giriamo sempre a fiamma normale fin quando non si compatta il tutto vedete sempre a fiamma così una volta compattato abbassiamo tutta la fiamma e facciamo in modo che sia una fiamma molto 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 piccola quasi spenta fatto ciò giriamo vedete la fiamma è molto molto bassa giriamo di tanto in tanto vedete già il composto inizia a essere un pezzo perché l'umidità inizia a evaporare e facciamo questo diciamo questo tipo di lavorazione sempre a fiamma bassa vedete bassissima quasi spenta per circa 15 minuti faccio vedere sempre vedete il composto come inizia a essere duro fate in modo quando meno semolino rimane attaccato in fondo alla pentola in modo tale che sarà il totale del peso che servirà se buttate troppo semolino cotto ovviamente il ripieno sarà più molliccio vedete adesso vado a spiegnere dopo 15 minuti e faccio stare così nella pentola per altri 5 massimo 10 minuti una volta che si è intepidito il semolino vedete vado a ripetere l'operazione una volta che si è intepidito il semolino lo vado a mettere in un recipiente vado a mettere in un recipiente vedete è importante la fase del semolino non la dobbiamo sottovalutare perché diciamo è la base del ripieno ecco qua ne vado a mettere in un recipiente e lo facciamo raffreddare la migliore cosa è farlo il giorno prima se lo fate raffreddare per almeno due tre ore prima di usarlo lo andiamo a compattare di ogni diciamo parte quattro ore prima di utilizzarla se la fate il giorno prima come sempre è ancora meglio vedete io siccome ho lavorato tutto a fresco sto facendo raffreddare il semolino lo vado a capovolgere perché si raffredda prima negli agrumi grattugiati vado a inserire giusto un cucchiaino di zucchero e poi vado a mettere in un recipiente nel frattempo faccio la lavorazione vi ricordo che nel mio canale c'è come fare la pasta d'arancia andate nel mio canale c'è il video di come fare la pasta d'arancia come ho detto anche nel video della graffa napoletana le zeste con lo zucchero vanno a rilasciare gli oli essenziali per aromatizzare tutti gli impasti vedete il semolino come si presenta bello solido duro è importante la fase del semolino metto in planetaria insieme vedete come hanno rilasciato gli oli essenziali vado a mettere le zeste di limone arancia nel semolino la vaniglia un pizzico di cannella liquida massimo due gocce 23 gocce se è molto potente se è scarsa potete anche aumentare un poco dipende dai gusti oppure vedete vado a mettere due gocce di cannella sulla sinistra che cadono oppure un pizzico se l'avete in polvere e facciamo impastare aromi e semolino questa è una fase importante da non sottovalutare perché gli aromi devono compartarsi per intero nel semolino che poi sarà la base diciamo del ripieno fatto ciò vedete il semolino era diventato un solo blocco vado ad inserire la metà della ricotta una nozione sulla ricotta di vaccino se usate ricotta di vaccino molle ovviamente avrete il risultato molle se usate ricotta di vaccino ben secca asciutta è meglio deve essere tipo romana la ricotta di vaccino tipo romana ma non ricotta romana di pecora ma tipo romana nel senso di solidità vedete quando è di nuovo diventato un solo blocco di semola e ricotta precedente andiamo ad inserire la ricotta rimanente in due riprese ovviamente la ricotta l'ho inserita siccome poco a 250 grammi ecco qua aspettiamo che si fa di nuovo un solo blocco facendo sì che la semola prende corpo con tutti gli ingredienti e si asciuga per bene e prepariamo lo zucchero ovviamente vicino alla planetaria andiamo inserire lo zucchero in due riprese vediamo come si compatta di nuovo il semolino con la ricotta ci sa anche chi per agevolare diciamo la consistenza del ripieno delle spogliatelle va a inserire più semola che ricotta o zucchero però diciamo che abbiamo un ripieno carico e troppo asciutto e non viene mai morbido come questo anche nel risultato finale andiamo inserire la metà dello zucchero e facciamo impassare il tutto una volta che si è asciugato lo zucchero nel ripieno vedete che spettacolo il ripieno rimane sempre ben solido andiamo a inserire l'altra parte dello zucchero e sulla sinistra i restanti grammi di zucchero e poi in ultima fase inseriamo i cubetti d'arancia canditi vi ricordo che nel mio canale c'è il video di come realizzarli come vedete il ripieno giustamente collassato è normale dovuto alla quantità di zucchero e di ricotta vado ad inserire i cubetti d'arancia e il ripieno è finito i cubetti d'arancia si possono inserire anche manualmente a questo punto meno la macchina stressa diciamo ripieno meglio è quindi andiamo ad estrarre il ripieno vedete faccio vedere la consistenza guardate non è né troppo molle e né durissimo fatto il ripieno adesso andiamo a fare l'impasto mettiamo nella planetaria tutta la farina manitoba andiamo a inserire il sale lo zucchero nell'acqua giriamo il composto inseriamo tutto insieme nel nell'impasto aspettiamo che si scioglie bene il lo sa il sale lo zucchero inseriamo il tutto nella planetaria vedete ho messo il gancio iniziamo ad impassare magari possiamo aumentare anche la velocità questo impasto ovviamente è un impasto abbastanza secco asciutto di acqua che è molto secco quindi andiamo ad aiutare nella seconda fase diciamo questa fase qua è troppo in anticipo quando vediamo che l'impasto non riesce proprio a impastare andiamo a dare una mano con le mani ecco vedete come faccio io vado a compattare tutto il composto per fare prima sicuramente comunque la macchina deve essere una planetaria abbastanza buona perché questo impasto un impasto molto tenace e duro se lo fate troppo molle perché vedete che troppo dure e mettete altra acqua non non verrà diciamo la sfoglia della sfogliatella perché verrà molto molle e andrete anche diciamo in difficoltà nella lavorazione perché verrà molle quindi non si arrotolerà per bene vedete io vado continuamente a compattare il l'impasto non lasciate nessuna goccia d'acqua diciamo che non avete messo mettete completamente l'acqua indicata perché la ricetta giusta vediamo che la macchina ovviamente inizia a faticare perché comunque l'impasto è poco quindi ce la fa se già aumentate più di mezzo chilo che ho scritto io nella ricetta veramente potete rompere anche la macchina perché è un impasto abbastanza duro fatto questo l'impasto è pronto quindi lo andiamo a mettere in un recipiente d'acciaio per comodità o di plastica è uguale io vado a mettere in questo recipiente di d'acciaio e lo copro con pellicola e lo andiamo a far riposare per almeno una mezz'oretta per poi raffinarlo vedete io mi sono munito di una stand di pasta classica per pasta diciamo quella fatta normalmente casalinga vedete a manopola con tanto di spessore che posso modificare andiamo a raffinare l'impasto finché non diventa un impasto liscio mettiamo lo spessore più largo della macchina per inizialmente per farlo raffinare ovviamente diamo sempre schiacciata con le mani per raffinare il composto prima nella macchina altrimenti è troppo largo e non c'entra voi se avete altre raffinatrici o sfogliatrici più grande quelle elettriche magari andrete sicuramente meglio io vado a raffinare il composto vedete in questo modo fino a quando diventa un impasto liscio lo posso arrotolare anche su se stesso quindi non è che deve avere una piega ben precisa in quanto diciamo basta solo che è raffinato ecco qua faccio in questo modo e poi ripetiamo questa operazione finché non avremo un impasto liscio vado a ripetere di nuovo la stessa operazione e arrotolo sempre per farlo sempre più compatto ottenuto vedete questo panetto ben liscio e omogeneo vado a mettere di nuovo in un recipiente e lo facciamo riposare altri 30 minuti faccio riposare perché deve essere ben riposato prima di stenderlo vedete dopo 30 minuti l'impasto vedete come risulta bello riposato vedete lo posso allungare addirittura anche con le mani e diciamo che facciamo questa operazione di allungarlo prima ben bene con le mani perché altrimenti come vi dicevo la mia diciamo questa stendipasta può andare in difficoltà mentre io lo allungo ben bene per farlo fare prima diciamo vedete fatto ciò vado a fare la lingua la chiamiamo noi la chiamiamo la lingua iniziale dove poi si andrà a rotolare l'impasto per la sfogliatella che sarà l'inizio dell'impasto vado a continuare così fino a quando andrò a mettere al massimo della misura che hanno queste normali stendipasta quindi alla misura più sottile possibile magari faccio due tre passate della misura più sottile e l'impasto sarà pronto vedete lo vado a estrarre dal suolo diciamo della della stendipasta magari potete anche stendere con le mani vedete che è tipo un elastico quindi si può stendere anche con le mani così in questo modo magari da agevolare sempre la nostra piccola stendipasta vedete è normale che qualche parte diciamo cede l'impasto anzi è meglio perché vuol dire che l'impasto è ben riposato e adesso ci andiamo ad aiutare anche con un matterello perché a un certo punto quando esce dall'altra parte l'impasto va arrotolato su un matterello e poi su un altro ancora in modo tale vedete questo punto vado a mettere al minimo come vi dicevo della misura c'è la misura più sottile vedete già risulta molto sottile ecco da questa visuale faccio vedere meglio vedete deve essere più o meno questo spessore qua per un paio di volte vedete come vi dicevo va a cedere perché l'impasto è ben riposato deve essere così tante persone mi hanno contattato altre volte perché mi hanno detto come mai si è attaccato vicino al matterello voi dovete fare attenzione che dovete staccare la parte caso mai attaccato la parte precisamente altrimenti se staccate la parte magari che si spacca dopo non riuscite a staccare il resto quindi ovviamente si è distrutto l'impasto e non va bene ecco e così via man mano vado a raffinare e tiro con l'altro matterello da un lato e dall'altro lato vedete fino a quando ovviamente non fa niente se si rompe un po' alle punte vengono tagliate poi vi faccio vedere io come faccio nel video eccolo qua l'impasto ecco vado a posizionare il matterello con l'impasto pronto su due diciamo sacchetti di o se avete comprato dei pacchetti di farina o zucchero è uguale basta che sono soliti vedete il nostro strutto strutto ovviamente non direttamente quello animale ma almeno raffinato vedete come vi dicevo l'impasto è normale che si attacca un po' però voi dovete essere lesti come me in questo caso questa è la parte più importante andiamo a togliere questa parte diciamo che si è attaccata un poco ed è normale vedete come lo spessore alla fine in larghezza la larghezza dell'impasto è più o meno quanto la larghezza della sentipasta quindi non deve essere molto largo altrimenti facciamo un rotolo troppo largo e non va bene ma da rotolare l'inizio in questo modo mettiamo già lo strutto sull'impasto e arrotoliamo vedete il primo questa è la parte più importante perché non si deve perdere questa parte altrimenti dopo possiamo avere un rotolo che si ritira questa parte e non va bene diciamo che il culetto della sfogliatella riccia si va a rientrare all'interno e avremo una riccia una sfogliatella con diciamo dei strati anomali quindi vedete io man mano che vado a stratificare vedete passo lo strutto e vado ad arrotolare e mi mantengo sempre su quella larghezza che vedete che dà il matterello non mi vado allargare sempre di più altrimenti avremo un rotolo che è troppo largo però è troppo stretto ecco qua vedete come faccio io in questo modo come vi dicevo è normale che va a cedere vedete quando si attacca un po vicino al matterello come vado a staccare il filo preciso altrimenti si rompe tutto vi dicevo è normale che cede un po vedete a largo pure non fa niente basta che viene ben arrotolato e ben diciamo cosparso distrutto vabbè poi diciamo che lascio tutto il mio parlare ma comunque vale questo video diciamo a livello di visione perché alla fine è sempre la stessa cosa vedete guarda come cede anche là perché c'è un po di attaccato io vado a staccare precisamente magari dopo vado a dare anche una vedete vi vado a rappiccicare l'impasto e metto sempre lo strutto per stratificare l'impasto e vado ad arrotolare è normale perché poi comunque questa è una lavorazione fatta in casa quindi non è che pretendiamo chissà che da una lavorazione specialmente di questo di questo calibro in quanto ci sono attrezzi che fanno la stesura degli impasti alla grande senza sacrificarci come stiamo facendo noi pur di fare questo dolce a casa perché veramente straordinario vedete io ogni stato che vado a fare vado a cospargere sempre distrutto e vado sempre ad arrotolare finché non finisce l'impasto grazie a tutti ecco finito tutto l'impasto sono andato a tagliare la parte diciamo che era troppo attaccata e voilà vado a finire il tutto e andiamo a mettere lo strutto lateralmente vedete e facciamo diciamo riposare questo panello metto per almeno una mezz'oretta in frigorifero dopo una mezz'oretta di riposo anche un'oretta se è possibile vado ad allungare un po' il pezzo non lo vado ad allungare tanto perché è un pezzo totalmente piccolo di mezzo chilo quindi non c'è bisogno di allungare tanto vedete già vediamo la stratificazione andiamo a togliere le parti laterali che purtroppo non ce la fa uscire diciamo una sfogliatella andiamo a tagliare dei pezzi da più o meno un centimetro di vedete di spessore faccio una prova va bene così come misura più o meno dovrebbe uscire dalle 10 12 sfogliatelle massimo e lo sfizio giusto vi ripeto di fare questa lavorazione a casa perché quando riesce veramente è una soddisfazione e così andiamo a ricavare le 12 sfogliate in questo caso sono uscite 11 volendo rinescono dalle 10 alle 12 sfogliate andiamo a corspargere ogni pezzo di un po' distrutto giusto per non far seccare molto l'impasto laterale se lo usate per esempio magari in giorni in avanti andiamo a mettere giusto un po' distrutto vedete come faccio io in questo modo vi faccio vedere più da vicino come sono guardate che spettacolo tutta la rigatura si vede dell'impasto e voilà fatto ciò i tappi delle sfogliate sono pronti il ripieno ovviamente andiamo a battere un poco se l'avete fatto molto prima che si è compattato una placca da forno classica al nostro fianco e voilà andiamo ad aprire il tappo vedete ovviamente se stavano in ficolifero li facciamo stare giusto 5 minuti fuori andiamo a allargare il tappo in questo modo faccio vedere prima piano piano così vi rendete conto guardate che spettacolo che bello bellissimo e andiamo a riempire io mi trovo con un cucchiaio voi potete fare anche con un sac à poche ecco da qui si vede meglio vado a riempire con un cucchiaio come vi dicevo andiamo a togliere tutto l'eccesso e voilà guardate che spettacolo bellissima e il resto vi faccio vedere un po' più veloci altrimenti il video veramente sarà troppo lungo ecco vi faccio vedere vedete sempre come si presentano e voilà e questo lo facciamo per io a me sono uscite più o meno sembra 7-8 perché il ripieno era di meno era di 250 grammi di ricotta infatti in ricetta vedete che bello in ricetta vi ho dato la ricetta per 300 grammi per fare uscire il totale di questa ricetta di sfogliatelle ecco le ano erano 8 e andiamo a infornare a 220 gradi forno ovviamente sempre preriscaldato per circa 15-20 minuti dopo 20 minuti guardate che spettacolo c'è il ripieno che fu riuscito ma guardate che che bellissime sfogliate per essere fatte in casa penso che sono veramente spettacolari io vado a mettere vedete tolgo l'eccesso i miei figli hanno mangiato tutto l'eccesso di ripieno che fu riuscito e voilà le nostre sfogliate sono pronte adesso vi faccio sentire anche il canto della riccia perché la riccia deve cantare come sempre ovviamente una spolverata di zucchero a velo è facoltativo e voilà ragazzi ci vediamo dopo per l'assaggio che spettacolo questo interno croccante una sfoglia friabile un ripieno completamente saporito non ce la faccio più basta dolce non lo devo mangiare più impossibile mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like iscrivetevi al mio canale e seguitemi sempre sui social facebook instagram e tiktok sotto il video troverete nella ricetta troverete il link nella descrizione per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante mi raccomando lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti se vi è piaciuto questo video sotto il video c'è scritto condividi condividetelo sulle vostre pagine dei vostri social ragazzi un bacio a tutti alla prossima ricetta